Programmati i lavori pubblici previsti per il prossimo anno nella città di Agropoli, ma il sindaco Adamo Coppola sottolinea che prima di pubblicizzare quello che si andrà a realizzare per il prossimo anno, partiranno a breve i lavori per la rotatoria a mattine e saranno effettuati in queste settimane i lavori alla Villa Comunale Agropolese. Siamo nella fase di fine anno dove abbiamo programmato i lavori pubblici per il prossimo anno. Ci sono una serie di interventi che verranno messi in cantiere tra poco, però annunciamo soltanto quelli delle prossime settimane che sono certamente l'inizio della rotonda a mattine e l'intervento nel Parco Bonifacio dove andiamo a ristrutturare tutta l'area per farlo diventare un parco inclusivo dove tutti potranno vivere una realtà nuova, tutta la famiglia. Noi abbiamo immaginato un parco nel quale sarà possibile avere un'area per il gioco dei bambini, un'area per il fitness, per i disabili, per un luogo di incontro che riteniamo sia strategico e importante per la nostra città. Ci sarà anche un potenziamento della rete Wi-Fi, abbiamo letto in questi giorni. Sì, ci sta anche il potenziamento, abbiamo acquisito un finanziamento per garantire la rete Wi-Fi per tre ore al giorno a ogni connessione nelle aree maggiormente frequentate, quindi dall'Uguare San Marco, che so io, al centro cittadino, insomma, sarà possibile collegarsi gratuitamente. Ormai questo è un servizio essenziale, insomma, oltre al telefonino e, diciamo, gli smartphone sono utilizzati ormai per fare un po' tutto, dal lavoro, come dire, al tempo libero, al turismo, alla cultura, quindi era giusto rendere questo servizio, specialmente negli ultimi anni che ci sono stati dei problemi, potenziarlo e garantire quindi quel servizio minimo essenziale che ormai è diventato necessario. Grazie.